Questo qui invece è un altro colte revisionato sempre da me, con frutta zuccherata appena in padella, con succo di limone, sciroppo di zucchero e un po' di amaretto di saronno, che qui c'è la miniatura. Dopodiché vado subito a mettere il ghiaccio nel boston, sempre dagli 8 ai 13 bucchetti per un boston di queste dimensioni. Metto dentro sempre, faccio con vodka, un po' di mandarinetto e poi ci metto un po' di sciroppo, di cuore al liquirizzo o anima nera, come voi preferite. Adesso il contenuto con il 50-60% di vodka, un altro 10-15% di mandarinetto. A finire ci metto un po' di anima nera, sciroppo di zucco e una punta di succo di limone. Mescolo il contenuto per ottenere 10 secondi. Streghe e vado a versare il contenuto alla base della nostra coppetta. In questo caso abbiamo due coppette degli anni 70. Vado a guarnire il tutto con un mio preparato di ghiaccio, una piccola barchetta. e poi dietro ci metto un po' di frutta zuccherata. Chichi di melograno. Dopodiché colmo il tutto e vado a servire il cocktail. Sempre con il mio preparato di frutta zuccherata. Accostandolo al cocktail che stiamo dando al cliente in questo momento. In queste frutte ci ho messo solo arancia, limone, mandarini, kiwi, due mele bianche e rosse, un sciroppo di zucchero concentrato, scaldato con cognac in padella antiaderente. E il cocktail è servito. Grazie. Grazie.